Vai! Ci siamo? Sì! Ci siete? Siamo a mezzo! A mezzo! Hai un sorriso? Hai le foto qua? Si, ho le foto qua! Un sorriso! Con la... Ci sai che te guarda? Ti ho fatto la foto? Tipo... Tipo invidia! Vedi Maria? Guarda! Anche io vi sto facendo fare così, ma non guardavo male su due ore! Siamo? Siamo? Si! 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 Luca è notato! Ah! Senta non tirare niente su! Oh! Oh! Buongiorno! 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 Ciao! e la frase datemi la paletta e un microfono attenzione attenzione uuuu è una foto io sto facendo un coro un coro un coro un coro un grigio un gratulazione dottoressa vai 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 vai, vai, vai! quello me le fai! cento piede e l'ho fatta io poi c'è anche il video non sento ma c'è anche il video lo scrivo tantissimo dov'è? Tutto, 360. Davvero? Oh, fratto! Oh, fratto! Beh, ma ci sei una delle poche a vedere i video 360 della... Ok, io dico, qualcuno ha detto che qui si è piantinale. E' un'altra della Hobbit. Beh, la si scoverà, eh. Anche perché in un video di 5 minuti occupo un zero. Ciao! Fissavo di essere un video in bicicletta. Allora, intanto io stoppo. No, non puoi scopare l'ora. No, non puoi scopare l'ora. No, non puoi scopare l'ora. Ciao! Sì, come vengo?